Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo la prima maglia dell'Italia per la stagione che è in corso per i prossimi europei in edizione fan. La maglia l'avevamo già vista, trovate qui in altra recensione, una maglia molto bella. La maglia l'avevamo già vista, trovate qui in altra recensione. La maglia mi piace, avevo già avuto modo di dirlo e lo ribadisco. Bello il tessuto, buona la qualità, il costo veramente super avvantaggioso. Tra l'altro ora che ho preso un po' di maglie Nike, scusate di maglie Adidas, trovo alcune affinità tra queste e le altre. Ad esempio questa banda laterale oppure il tessuto che viene utilizzato sulla venta. Comunque molto molto meglio. Lasciate nei commenti la vostra opinione e fatemi sapere quale altre maglie vorreste vedere in futuro. Prima di lasciarci iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!